Sono Manuela Lavezzari, EMEA Education Marketing Director per Lenovo e sono qui oggi in questa scuola, l'Istituto Comprensivo Mattarella, per parlare insieme ad altri partner come Lenovo e come Campus Store di un progetto che abbiamo realizzato per raccontare cosa significa Eduverso. Vorrei partire da un dato, l'84% delle aziende europee secondo il World Economic Forum ritiene che le aziende abbiano già iniziato un processo di trasformazione digitale, quindi già oggi ma ancora di più in futuro verranno richieste delle persone, delle figure con dei talenti e delle competenze tecnologiche e digitali specifiche, quindi a maggior ragione oggi la scuola deve investire nelle competenze digitali e ancora di più in strumenti innovativi. In un certo senso mi piacerebbe definire le tecnologie come degli interruttori, interruttori di forme di apprendimento e l'apprendimento oggi è attivo dove tutti gli utenti, gli studenti, gli insegnanti sono e possono essere degli agenti attivi, possono intervenire all'interno dei percorsi didattici. Come Lenovo noi vogliamo continuare a dare il nostro contributo affinché l'utilizzo di strumenti innovativi tecnologici e attraverso lo sviluppo di competenze digitali si possa arrivare ad avere una scuola sempre più aperta, più inclusiva, dove l'esperienza educativa sia migliore sia per gli studenti che per gli insegnanti. Quindi iniziative come queste sono assolutamente da promuovere perché non fanno altro che preparare i nostri ragazzi per un futuro dove la tecnologia farà parte della vita quotidiana.